Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Kirby's Return to Dreamland Deluxe Siamo al mondo 5, frontiera frittella, manca solo il quinto livello e poi anche il livello del boss da affrontare in questo episodio Quindi non perdiamo tempo e tuffiamoci subito all'interno del livello 5 Eh, si è fatta notte, siamo saliti tanto in alto ed è giunta la notte Uh, l'assenza di musica non prospetta nulla di buono, abbiamo diversi power up Io prenderei Kirby Raggio Mi fido di più Eh, no, sono a posto con l'energia Oddio, che siano due Fenixitas? No, tutti quanti i nemici? Mega Cavaliere? Ok Posso affrontarlo così volendo e vincere? Sì, posso affrontarlo così e vincere Lo assorbo perché tanto poi serve la sua abilità come abbiamo imparato Se però sono solo boss rush Eh, invece serve Quindi servirà la... Se sono tutti quanti i nemici servirà sempre l'abilità del nuovo nemico Eh, no, ecco lì Ah, ok Ah, ok Per affrontare magari meglio il prossimo avversario Allora, mi sta facendo un botto di danni Però io... Resisto Ah, malissimo 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 Mi ha fatto troppi danni E non ho neanche un souvenir per curarmi Però c'è la caramella Che mi ricarica di poco Ok, devo stare attento a durare le prossime sfide Qui nient'altro? Ok, c'è qualche stellina Che magari prendo Ok, nient'altro Ah, sì, ce n'è una Ah Vediamo un po' che altri nemici ci compaiono ora Magari possono essere buoni per il prossimo boss C'è Kirby Raggio? Ah Kirby Raggio Perché? Allora io continuo a fare così Però non serve a niente Se sto troppo in alto E lui mi raggiunge comunque Però posso fare così Posso fare da lontano E vincere Ok Se avessi preso neanche un danno Sarebbe stato meglio Ma Questa è solo colpa mia Perché non è souvenir Aspetta Non c'era un modo più semplice per farla? Non mi ricordo Però dai Abbiamo Fatto, no? Voglio dire Sono quattro ingranaggi Quattro nemici L'ultimo l'abbiamo fatto Giusto? Oppure c'è anche un nemico finale Oh Ser The Zack E attenzione Che Perché c'è Kirby Mecha? Kirby Mecha è per lo scontro Da lontano Che cos'è questo? Bene Preso Elettro Ah Lui è elettro Pensavo Kirby Mecha Oh cavoli Ah va bene Ok ho capito forse Ecco qua Sì non riuscivo a saltare In realtà L'abilità Sapevo come usarla E che non riuscivo a saltare Allora Forse c'è un altro nemico finale Da affrontare Mi sa di no Oh Che carini Che sono stati A ridarci anche La salute per la fine Che bello Allora Livello Molto atipico Oh Quattro Ma peggio D'altra volta Più sta più faccio male Eh Grazie Ed ecco qua La sfida Al boss E tutte le sfere Di energia Del mondo 5 Ok Devo salire Allora Boss Livello 6 Ci vado col power up Anche se tanto Poi me lo fanno Scambiare Dentro Danno una serie Di power up Disponibili Tra cui scegliere Allora Wow Tanti ne abbiamo Sabbia Frusta Lama Piuma Volo Ah Abbiamo Kirby Rottatore Ma c'è anche Kirby Mecha Non so Nulla di questo Nemico Quindi andrò con Kirby Mecha Se perdo Proverò un altro Kirby Allora Come Rip Anche Lou M allen segregated Perdo Fenix di fuoco Wow questo è cattivo allora Ok ok Che fa che fa che fa Oh c'è il buco nero Eh vabbè amico mio però non puoi fare come pare a te Ah da qua esci Cosa pensavo uscissi da quell'altro Mi sembrava un attimino Una cosa più logica Invece no Ti potensi ora che fai Più arrabbiato Eh si amico mio però Gioco dei videogiochi da quando avevo 4 anni Non sarò una cima ma So capire quando un nemico fa un attacco strano Ah la fase finale questa proprio Ah ok Che dovevo fare lì Ok ora è chiaro Forse prima non l'ho visto Bene ok Ma grazie che mi ricarichi anche Bene ecco qua E dos Eccolo qua 3 Dai su Fenix Che bisogna fare Dai Tato dai Partire Grazie a tutti. 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 Dammi un souvenir, per favore, capo. Grazie mille. Allora, andiamo a vedere un attimo la mappa, perché magari, sapete cosa poi? Non inizierò subito, non inizierò subito, non inizierò subito a fare questo, quest'ultimo pianeta, quest'ultimo mondo, industria in voltino. Ma intanto entriamo, ma è un'altra, però aspetta, ora c'è un'altra, ora c'è una cosa da vedere qua. Ok, questo è il livello finale, va bene, 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 va bene interessante quello che c'è qui dentro. A ogni modo amici per questo video è tutto Come ho detto nel prossimo andrò a fare un po' di svago A Parco Magolandia Vediamo i biglietti da riscattare, i timbre, tutto quanto E ce la spassiamo un pochettino Io come sempre vi ringrazio intanto Per aver seguito questo video In descrizione trovate come sempre Tutti quanti i link utili Per seguirmi dove vi pare Se vi va E ci vediamo ovviamente al prossimo video Ciao Ciao